alla partenza ora anche la seconda batteria della categoria G5 sopra zocco e springhedi le maglie sulla testa del plottone in queste prime fasi di gara gara ancora piuttosto controllata per questa seconda batteria con il gruppetto dei migliori che è composto da circa 8 unità è un portacolori della sopra zocco che al suono della campana aumenta deciso l'andatura tra poco vedremo quello che accadrà e all'arrivo è volata tre con la vittoria di epis josue della springhedi su agosti andrea del progetto ciclismo rodengo saiano e perino giuseppe della sopra zocco quarta posizione per Bettinazzi Francesco sempre della sopra zocco davanti a Comincini Gabriele della Ronco Grazie per la visione!